ora faccio questa torre chiamo un quarto in una giacchetta la moglie non è un'altra se volesse appiccicare stancuttosa si è scattata che non sa che volesse il marito l'acceressa un suo figlio lo guardava Don Enrico l'ha capito vio là con chi? e ha spesso e l'ha lasciato questa scopetta un po' tonto e sta là non signor ci si chiude a parlare un po' contattore un po' gas si signor è un giocogno io si l'ha accattato con la goccia si signor ma che sei morto tu non ti fanno sconuto dove sta? ehi vinto il gilet e te lo dico e stasera non cuci? sto anche stancato e non mi cuo faccio pane se le voglio tu che fai tu mangi? si giletita a Don Peppino che è una moglie immaculata spanno i panno da colate e ci stanno fino a caccia le rette ehi i quali non lo vengo ciò dico non le rettoreste niente le danze come siente e ora vengo ma culo ahhh 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 ahhh